cooperativa agricola volpago offre carne d'eccellenza ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago benvenuti al meteo settembre al via con sole e caldo gradevole grazie alla presenza dell'anticiclone vediamo il dettaglio della giornata di sabato sul veneto sarà una splendida giornata all'insegna del sole con cielo sereno o al massimo velato innocue velature in corrispondenza dei rilievi temperature in contenuto aumento minime tra 13 e 20 gradi massime comprese tra 24 e 29 gradi spostiamoci ora sul friuli venezia giulia anche in questo caso bel tempo con ampio soleggiamento e cielo limpido senza piogge temperature minime tra 14 e 20 gradi massime sui 26 28 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del trentino alto adige dove sarà anche in questo caso soleggiato con limitati addensamenti nel corso del pomeriggio temperature minime intorno ai 15 18 gradi massime sui 28 29 gradi all'incirca dal meteo per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci cooperativa agricola volpago offre carne d'eccellenza ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago grazie per l'attenzione